Chi sono i migliori per questa formula nella storia del gioco? Eccoli qui, Will Chamberlain, Michael Jordan, LeBron James sono gli unici tre giocatori che abbiano avuto finora un PER superiore a quello che al momento ha Anthony Davis Il diventato famoso a Kentucky Potenziale inestimabile, chissà dove potrebbe arrivare Qualsiasi uomo di NBA di diventato 3-4 anni la dominerà la Lega Della notte di Anthony Davis Ecco, il potenziale di Anthony Davis Non è calcolato da nessun computer sulle terre emerse Anthony Davis buttandosi indietro e poi dicendo Calma che ho appena cominciato Tiro da 3 Se gli lasci uno contro uno completamente in isolamento Senza il minimo aiuto Poi è veramente tosta poter mettere una mano su quella palla Ragazzi, può dominare i due parti del campo A due estremi del campo Una volta sarebbero stati impostati spalle a canestro E che invece adesso ormai Pensano che ci sia una terra dove possono giocare Certo è che se c'è quel ricevitore lì è ancora un po' più facile Grande difesa Cancellato da Anthony Davis Il fattore che mi fa impazzire Mamma mia Mamma mia Mamma cosa ha fatto Anthony Davis Mamma mia E' il grande perno di Anthony Davis Mamma mia Mamma cosa vedo E già il resto tiro come un esterno Meglio di un esterno Mamma quanto è forte se solo lo sapesse Volendo c'è anche il tiro da 3 Si gira indifferentemente da questa sinistra e gli tira sulla testa C'è margine Ma tantissimo margine E ha una dimensione fisica e tecnica diversa da tutti gli altri in campo Fuori dal mondo Anthony Davis Che può essere un terrificante fattore difensivo Quando allarga le braccia O quando alza le braccia E Davis è bravissimo a rubare la posizione all'inizio dell'azione Bellissimo canesto per tecnica e per momento Pazzesco Pazzesco 2 e 15 Pazzesco Secondo me tra qualche anno i Lakers faranno in modo che vada a Los Angeles E la Lega non farà niente per non farcelo andare Un giocatore così è da Hollywood Questo è roba da MVP degli MVP E il giorno del ritorno Smoothie King Center per 7 anni La casa del ragazzo da Chicago Torna New Orleans contro i Pelicans Il suo nome è stato coperto ma non dimenticato Recupera e semi-transizione sull'asse LeBron James e Anthony Davis Lo spin che ha fatto Davis andate a riguardarlo perché è di una velocità imbarazzante per quel fisico È un desiderio totale vedere in un'altra situazione Anthony Davis Torreggia letteralmente Gancio a centroarea sublime Anthony Davis Qui Davis ne fa 4 in una M&M Inarrestabile nel senso più completo del termine Amici vi ho servito di barba e capelli ma ne ho fatti 41 Valtino eh Anthony Davis 2.15 con quella velocità di piedi Stiamo appena cominciando a grattare la superficie Non so se vi rendete conto della difficoltà di quel movimento per un'ala Pensate per un sette piedi abbondante Questo canestro è meraviglioso da rivedere immediatamente Fuori classe ma fuori classe è vero eh F maiuscola La schiacciata al volo terrificante Clamoroso 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 Anthony Davis Ma questo è impressionante per la velocità e il controllo in quella virata Diciamo che la partita di Anthony Davis ce la ricorderemo Comunque vada a finire